Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessilan Condivision. Per chi non lo sapesse già, quest'anno Condivision è un po' cambiato. Va in onda due volte al mese e nella prima puntata del mese parliamo dei progetti più discussi, che più vi sono piaciuti o che hanno riscosso comunque maggiore interazione durante il mese precedente, in questo caso nel mese di ottobre. Nel dettaglio ne alizzeremo ben tre e oltre a questi parleremo anche della creazione che ho ottenuto più mi piace durante il mese appunto di ottobre. E alla fine concluderemo il tutto con un graditissimo, dolcissimo, meraviglioso, bellissimo, altri aggettivi non ne ho, intervento di una carissima creativa, con lei che ha realizzato appunto un tutorial che vi è piaciuto davvero tantissimo. Questa poi è introdotta una puntata davvero molto speciale, molto bella. Una puntata che va come fulcro centrale, sbagliando si impara. E secondo me è un bel messaggio che darà questa puntata. Fossi in voi ascolterei e vedrei tutti i messaggi vari che ci sono arrivati delle persone che abbiamo contattato, perché appunto trasmettono proprio questo messaggio ed è secondo me davvero molto molto bello. Ma iniziamo subito con il primo progetto di oggi. Il primo progetto di quest'oggi è un meraviglioso cappottino che vorrei tantissimo, anche per me e quindi, di Paola Carlini, che lo ha realizzato con Paola ha utilizzato il berry in tante diverse varianti di colore e l'uncinetto numero 5. Allora, è un cappottino che davvero vi è piaciuto tantissimo, probabilmente per la sua semplicità, per la gamma di colori, per la foto, perché è una foto comunque molto carina. Ci ha inviato anche un messaggio vocale, quindi ascoltiamolo insieme. Buongiorno, sono Paola, vivo ad Ascoli Piceno, un centro storico costruito in travertino, chiamato anche Città delle Cento Torri. Con il lockdown ho ripreso in mano l'uncinetto ed ora non riesco più a lasciarlo. Ho realizzato questo cappottino perché è desiderio di mia figlia, visto su Pinterest e realizzato più o meno negli stessi colori. Ho usato il barri, uncinetto 5, è un filato scorrevole e ancora più bello dopo il lavaggio. Ho utilizzato circa un chile e due di filato per la misura 40-42. Mia figlia, felicissima. Che dire, semplice, chiara, concisa, farò lo stesso anche io, anche se è difficile che mi riesca. Comunque, bravissima Paola. Il secondo progetto di quest'oggi sono due tenerissime fasce, realizzate da Nadia Cagnardi. In realtà mi ha detto anche il cognome in francese, perché lei è di origini francesi, ma per non fare una gaff preferisco evitarlo. Detto ciò, ha realizzato queste due bellissime fasce con, vediamo cosa, Nadia ha utilizzato il Marley blu, il Marley nero e l'uncinetto 5,5. Ha realizzato appunto queste due creazioni e ha utilizzato, come avete visto, insomma, il Marley. E le è piaciuto davvero tanto realizzarle, perché crede che sia una di quelle creazioni che possa davvero andare bene con qualsiasi outfit, da quelli più sportivi a quelli un po' più classici. E sicuramente il Marley si presta bene per entrambi. Ci ha detto che le è bastato un semplice gomitolo per realizzare un'intera fascia e che per farle basta montare un numero di catenelle sufficiente per la circonferenza della testa e proseguire, quindi davvero molto molto semplici. Ma ci ha inviato anche un video messaggio e noi lo ascoltiamo insieme. Ciao, mi presento, sono Nadia di Silk Knit & Crochet. Sono nata a Parigi nel 1983 e da diversi anni risiedo in provincia di Varese. Nello specifico abito a Gerenzano, che si trova alle porte di Saronno, la città degli Amaretti. Ho dei bellissimi ricordi legati alla mia bisnonna Elena, alla quale ero molto affezionata, perché lei lavorava tantissimo con i ferri. L'estate mi prendeva le misure e a Natale arrivava sempre un pacco con un maglione per me. Qualche anno fa ho trovato in un vecchio mobile dei suoi ferri ed è stato un po' come una scintilla. Ho iniziato quindi anch'io ad imparare ad usarli. Tra un dritto e un rovescio e tanti sbagli ho confezionato i miei primi progetti. Ho iniziato un po' come tutti dalle basi, quindi sciarpe e copertine. Con la spinta della mia amica Alessandra mi sono avvicinata al mondo dell'uncinetto e non l'ho più lasciato. Mi piace lavorare per me, per le mie bambine e mi piace molto condividere quello che faccio attraverso Instagram e Facebook. Spesso pubblico anche i miei pasticci, però sbagliando si impara. E da qualche mese ho inaugurato il mio canale YouTube dove pubblico dei piccoli video di alcuni progetti che realizzo. Volevo ringraziare Tessiland per questa piccola intervista. Spero di avervi fatto scoprire un po' di più chi è Nadia e di incontrarvi sui miei vari account. Ciao! Ma merci a toi Nadia! E quindi se anche voi volete contattarla o entrare nel suo mondo creativo adesso sapete come fare. E adesso passiamo al terzo progetto di oggi. Una bellissima borsa realizzata da Sperimenta. Cercherò di essere quanto più concisa possibile perché poi ci ha inviato lei stessa un video in cui ci parlerà di sé ma allo stesso tempo ci ha risposto anche ad alcune domande che le avevamo posto in merito proprio alla creazione. Quindi partiamo proprio da lì. Sperimenta ha realizzato questa borsa con Anna Maria ha utilizzato l'iggy in tre varianti di colore vale a dire mattone, rosa baby e bianco. Lavorato il tutto con uncinetto numero 3 e ovviamente i manici esagonali. Lei ci ha raccontato essere sempre stata attratta ma come tantissime in quest'ultimo periodo dalla Granny Mania. E infatti questa borsa l'ha denominata Granny Anna in onore della sua adorata nonna appunto Anna. Infatti l'ha dedicata proprio a lei. Ha utilizzato lo schema della classica mattonella e poi ovviamente ha fatto tutte le varie rifiniture e le è piaciuto dare questa forma comunque geometrica accentuare ancora di più proprio questa geometricità proprio con i manici esagonali che ha utilizzato. La maggiore difficoltà di questo lavoro sta nei cambi di colore e ci ha raccontato lavorando le singole mattonelle e poi le rifiniture vale a dire quindi la sistemazione dell'indurente e anche della fodera all'interno. La borsetta misura 22x22 cm. Ha utilizzato circa tre gomitoli per ogni colore. La tecnica appunto è quella della classica mattonella della nonna per l'appunto ed ha rifinito il tutto con il punto basso. Colleghi ci ha raccontato che si è trovata benissimo che lo utilizza per tantissime cose dagli amigurumi all'abbigliamento e poi che ha un rapporto qualità prezzo imbattibile. Ma adesso basta. Vediamola proprio con il suo video. Ciao a tutti. Mi presento, sono sperimenta, anche se in realtà mi chiamo Anna Maria. Gli amici mi chiamano però più Maria ma Anna è una parte importantissima del mio nome. Sono nata infatti il giorno di Sant'Anna e mia nonna materna si chiamava Anna. Con mia nonna ho trascorso la maggior parte del mio tempo. Lei mi faceva da mangiare, mi portava a scuola, mi portava al mare l'estate. Era una cuoca sopraffina e una bellissima sarta. Ricamatrice, sveruzzatrice e uncinettatrice. Quindi è sicuramente da lei che ho ereditato la passione di fare cose con le mani. Mia mamma e i miei nonni materni hanno origini lucane mentre mio padre e i nonni paterni hanno origini siciliane. Io sono nata a Roma e mio marito è di Pluneo mentre la mia bimba è nata a Bari. Per motivi di lavoro abbiamo vissuto in tantissime città d'Italia. Milano, Crema, Padova, Trieste, Castellanagrotte, Spoleto. Adesso siamo tra Roma e la Calabria, siamo a Palmi. Ma nel futuro sogno una casa in campagna, non so ancora bene dove. Sono un ingegnere e al momento sono una mamma quasi full time. Quindi lavoro in uncinetto nel mio tempo non libero e provo a condividere la mia passione per l'uncinetto condividendo i miei progetti attraverso video tutorial e schemi gratuiti. perché ho ripreso in mano l'uncinetto con assiduità durante la gravidanza passata a letto e sono quindi grata a tutti coloro che nel web hanno deciso di condividere la loro creatività. Ringrazio Tessiland per questa opportunità di presentarmi e se vi va passate a trovarmi nella mia terra di amicizia e di uncinetto. Ciao a tutti! Bellissima frase, Anna. Davvero. Terra di amicizia e di uncinetto. Io mi ci fiondo proprio. La foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana è la foto di Angela Lonigro che ha realizzato il cappotto a steco prendendo appunto spunto dall'omonimo tutorial realizzato dalla Fatto Tutto Fare. Vi è piaciuto davvero tanto sicuramente per la creazione perché Angela è stata davvero bravissima ma anche e soprattutto per il messaggio che ha inviato nel momento in cui ha condiviso questa foto. Infatti Angela ha proprio spiegato la difficoltà che ha riscontrato non tanto per il lavoro in sé ma sul fatto che abbia dovuto fare diversi tentativi prima di raggiungere la creazione completa e quindi è stata temeraria, è stata determinata e poi alla fine è riuscita nella sua creazione. Appunto ha sbagliato, ha ricominciato da capo, non si è resa e alla fine ha concluso il tutto. Per realizzare questo cappotto a steco Angela ha utilizzato, vediamo. Angela ha utilizzato il Celine in tre diverse varianti di colore vale a dire il blu, l'azzurro e il bianco ed ha utilizzato l'uncinetto 5 e il 6. Vi do qualche dettaglio in più. Allora, la lunghezza è 70 centimetri per la larghezza ha usato le misure del tutorial della Fata per una taglia 42-44. Ha utilizzato 8 gomitori di blu, 2 di azzurro e 1 di bianco per un totale di circa 1,1 kg. Mezza maglia alta presa sulla costina davanti così si creano delle righe, esattamente come da tutorial. Punto basso, punto gambero per il bordo delle maniche. Ma adesso ascoltiamo subito il suo messaggio vocale. Ci ha inviato anche un video da poter visionare poi insieme mentre proprio ascoltiamo questo messaggio vocale. Il capottino a steco della Fata Tuttofare mi ha conquistato a prima vista. Io ho usato altri colori perché il mio colore preferito è il blu e alla fine ho preferito usare quelle sfumature. Ma è stata veramente una sfida perché l'ho dovuto disfare un sacco di volte ma disfafai, disfafai. Ho dovuto anche inventarmi delle soluzioni personalizzate perché ho dovuto cambiare un attimino lo sprone ma cambiare uno sprone quando già si è arrivato in fondo significava disfare proprio tutto, anche le maniche. Alla fine ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Questo mi ha riempito di soddisfazione e di orgoglio perché alla fine la pazienza è stata premiata. Negli ultimi mesi io mi sono dedicata quasi interamente alle borse. è stata la stagione delle borse e stranissima anche questa perché era una delle cose che mi ero ripromessa che non avrei mai fatto perché secondo me non mi sarebbero mai riuscite. I materiali usati sono tutti tessiland. Io ho una scaffalatura, uno stanzino pieno di materiale tessiland, lana, juta, cotone. Quest'anno mi sono data anche ai cappelli che è stata una cosa anche quella molto imprevista. Però mi sono divertita veramente un sacco. Per me è un divertimento oltre che un relax. Io mi chiamo Angela, abito a Livorno però ho un posto del cuore che si chiama Isola d'Elba che mi ha completamente stregata, forse ancora più dell'uncinetto. Con questo penso di aver detto tutto. Io ho due figli ormai grandi e quindi nei weekend io, mio marito e il mio cane spesso e volentieri ce ne andiamo all'elba anche d'inverno anzi soprattutto fuori stragione quando non c'è nessuno. Sono colori e profumi che cambiano in continuazione calette dalle mille sfumature. Borghi abitati solo dai residenti e non dai turisti che ti fa gustare ancora di più il posto dove sei. Chiaramente in borsa ho sempre un gomitolo e un uncinetto. Non me ne separo mai. È un modo di rimpiegare il tempo libero e di pensare a progetti sempre nuovi chiaramente affidandosi alla tecnologia e ai tutorial di chi sicuramente ne sa di più di me e potrei starci una vita. mi piace tantissimo. Non è arte ma sicuramente è una grandissima passione. Cara Angela, come diceva Paul Klee un famosissimo pittore tedesco l'arte non riproduce ciò che è visibile ma rende visibile ciò che non sempre lo è. E tu sicuramente con il tuo lavoro sei riuscita a rendere ben visibile la tua tenacia, la tua determinazione e il tuo ottimismo. Brava e complimenti. Adesso veniamo però alla creazione. Allora la creazione che ha riscosso maggior successo che vi è piaciuta sia per i filati che sono stati utilizzati sia per il suo essere anche molto semplice ma particolare in modo tale da colpire sia chi diciamo è già vezzo comunque alla tecnica dell'uncinetto e chi si sta piano piano accingendo. Il tutorial in questione è il tutorial maglione all'uncinetto edi top crop della meravigliosa Cristiana Rossi. Ebbene sì quest'oggi parliamo proprio di lei anzi prima di parlarne in realtà vi faccio vedere questo video perché le abbiamo chiesto insomma ecco di parlarci proprio di questo tutorial di darci magari qualche suggerimento e quindi lasciamo adesso spazio a lei e vediamo che cosa ha da dirci. Ciao Valentina e ciao a tutti gli amici di Tessiland l'idea per realizzare il maglioncino edi mi è venuta per un'esigenza avevo infatti l'esigenza di creare un progetto veloce e ho deciso di optare per una lavorazione semplicemente a maglia alta con un raglan facile facile da fare. Per dare colore e movimento al progetto ho voluto utilizzare il filato master che è un filato davvero straordinario coloratissimo soprattutto nella tonalità che ho scelto io che è la Yang veramente molto 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 colorato e in pochi attimi ho realizzato il mio maglioncino ho semplicemente realizzato un bordino a punto elastico all'uncinetto dal quale ho ripreso i punti per realizzare poi il davanti e il dietro e successivamente le maniche alla grande. Questo è veramente un progetto che potete fare davvero tutti anche gli amici che hanno iniziato da poco a utilizzare l'uncinetto. E questi sono filati che danno spazio alla fantasia e danno spazio alla sperimentazione e anche in un modellino semplice semplice come può essere questo top crop regala quel pizzico di fascino modaiolo che non sta mai male. Quindi per quanto mi riguarda la parola d'ordine è sperimentare e con i nuovissimi filati della Tessiland c'è proprio da divertirsi. Un bacio a tutti! Io ringrazio immensamente Chris perché è stata davvero rapidissima è stata disponibile premurosa è stata davvero un amore oltretutto insomma ecco ad averci dato queste indicazioni che sono davvero fondamentali per la realizzazione proprio di questo tutorial. Ovviamente fondamentali come i filati che ha utilizzato. Lei ha utilizzato il bravissimo l'acrilico, il gomitolone o anche gomitolino se parliamo di quello dai 50 grammi per eccellenza che viene utilizzato davvero per qualsiasi cosa perché che se ne dica è un acrilico ma è morbidissimo come dicevo ha utilizzato il bravissimo e ha utilizzato anche il master young però come insomma ecco lei stessa ha detto anche nel tutorial ci si può sbizzarrire si possono utilizzare anche altri filati il bravissimo sicuramente appunto si presta bene ma perché no se volete qualcosa anche magari in lana potreste optare per il baby kei oppure il just in baby e poi queste rifiniture quindi il master sicuramente sono molto delineate sono molto vive poi il master è un filato molto spesso molto colorato e quindi spicca bene ma oltre a quello poi ce ne sono tanti altri sfumati allo stesso modo da poter utilizzare insomma ecco per appunto le varie rifiniture del tutorial quale potrebbe essere ad esempio un altro sfumato abbastanza spesso il west oppure magari potreste anche fare delle rifiniture in tinta unita con un filato altrettanto spesso ma non eccessivamente qualcosa magari da lavorare con un 105-7 e con tante varianti di colore in modo tale da poter accontentare tutte cioè il berry detto ciò io ringrazio ancora Cristiana perché è stata davvero dolcissima e adesso è arrivato il momento di saluti e la puntata di Tessilan Condivision si conclude qui è stata davvero una bella puntata il messaggio che hanno dato in particolare Angela e Nadia è stato davvero molto bello perché è vero sbagliando si impara che sia con i pasticci che diceva Nadia o che sia con la determinazione e le difficoltà che ha incontrato Angela poi alla fine la vostra creazione uscirà fuori o comunque sarà nel tempo che avrete dedicato a voi stesse che avrete dedicato alla vostra passione e sicuramente non è mai tempo perso io vi ringrazio come sempre per averci seguito vi ricordo di iscrivervi su tutti i nostri canali social e quindi Facebook Instagram Pinterest e TikTok di iscrivervi ovviamente su YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornate su tutte le rubriche di Tessilan di leggere il nostro blog al sito www.megiodimaya.com e per oggi direi proprio che può bastare qui bello ok puntata carica di emozioni grazie ancora e ci vediamo tra due settimane per una nuovissima puntata di Tessilan Condivision un bacio ciao 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 Grazie a tutti.